volevo fare il figo ma non ce lo fate c'è davvero del caffè dentro ciao e benvenuto a Soghiera un giratore al mondo dell'orologeria sono Pietro e oggi vi voglio parlare dello IEMA che ho ricevuto in prova per fare una video recensione poi lo restituirò si tratta infatti di un prototipo e per farlo come avete visto non mi trovo come al solito nella mia saletta di casa ma bensì a Parigi ma ve lo spiego dopo la sigla come vi ho raccontato questo video è stato realizzato in collaborazione con IEMA che mi ha mandato in prestito questo orologio per poterne parlare e devo dirvi la verità all'inizio non mi ha fatto impazzire non è scoccata la scintilla che scocca le volte e quando si vede un orologio è solo da un render ma dispetto di quelle volte in cui potrei dire magari viviamo dei fuochi di paglia questa volta non è andata così ma è stato un diciamo così un crescendo che mi ha portato ad adorare questo orologio che riporta tutte le caratteristiche degli skin diver così cari al paese di origine di IEMA che me l'ho fatto davvero piacere tanto e sono molto contento di questa cosa sono molto contento di essere capitato in questo viaggio a Parigi per lavoro e di aver portato questo IEMA con me per mostrare la bellezza della città e per mostrarvelo anche diciamo così sul polso in condizioni davvero diverse ora vediamo la video recensione poi torniamo qui per i saluti e le considerazioni finali questo orologio appena l'ho visto mi son detto carino ma non fa per me poi giorno dopo giorno durante la recensione e il tempo che ho avuto e ho trascorso insieme a lui ho cambiato idea e tanto trovo che sia una reinterpretazione di uno skin diver in chiave moderna e con caratteristiche che non stancano e non annoiano la referenza in particolare è quella dello storico IEMA Superman referenza 24 11-17 orologio da sub militare in dotazione ai sommozzatori dell'aviazione e aeronautica francese nei primi anni 70 questa è un'edizione limitata di mille segnatempo numerati a disposizione sia dell'esercito che del pubblico dopo la prova della versione di uno IEMA da 42 mm che mi aveva colpito ma non rapito del tutto con i 39 mm IEMA davvero fa centro e conquista chiunque restando sui numeri abbiamo un diametro anche leggermente inferiore a dirla tutta 38.5 un passo del cinturino da 19 non ottimale per chi ama cambiare vestito il proprio orologio e pensa subito ad un Tropic quando vede un diver spessore di 14 mm nel punto zenitale del vetro bombato e una distanza da ansa a ansa di 47 mm con la messa a misura per il mio polso il peso totale è di 126 grammi restando sul bracciale trovo ancora che ci sia da lavorare perché la prima maglia rende più ingombrante sul polso questo segnatempo e se per i 39 mm diciamola tutta va anche bene con i 42 questa diventa tanto il bracciale ha un suo design personale con le maglie laterali finamente satinate e quella centrale lucida oltre a questo si rastrema fino ai 16 mm dove possiamo vedere la Y di Yema e lo sgancio rapido per la muta che trovo molto molto ben fatto seppur semplice ma con una buona qualità superiore anche ad altri più prestigiosi che ho avuto modo di provare nel tempo il fondello è anch'esso semplice perdonate la ridondanza con le scritte in francese delle caratteristiche il numero seriale e questo prototipo ovviamente è zero ma quando si acquista l'orologio si avrà il proprio segnatempo con il numero specifico e unico cosa che per ogni appassionato è sempre affascinante una nota l'orologio numero 0001 non siete ci stavate pensando sarà ufficialmente consegnato al capitano Steve Slack come riconoscimento alla sua carriera militare come sommozzatore di soccorso aereo dell'aviazione nel centro del fondello serrato a vite la parte centrale micropallinata ospita il logo dell'armie dell'air e delle spese madonna mia come l'ho pronunciato male vabbè se qualcuno sa pronunciarlo meglio di me e vuole mettermi sotto in descrizione la pronuncia esatta ne sarò grato la cassa è interamente lucida e non presenta biselli di transizione devo dire che la forma studiata permette davvero di rendere l'orologio più sottile di quanto non sia realmente grazie a parte dello spessore portato sul fondello e i lati della cassa realmente sottili le ansie sono forate come ogni skin diver doveva avere soluzione quindi sportiva ma anche comoda per sostituire e bracciale con un cinturino l'inserto ghiera sembra in alluminio ma invece la lunetta è in vetro zaffio antigraffio con inserto nero e placatura bianca opaca per rispecchiare la resa lucida della lunetta in resina bachelite dell'ex superman già sopracitato ovvero la referenza 24 11 17 si richiama proprio i diver vintage con a ore 12 il triangolo senza punta per i tempi di immersione visto i 300 metri di resistenza all'acqua non ci sarà sicuramente nessun problema nessun utilizzo anche semiprofessionale la coronavite si aziona molto bene ed ha un duplice scopo oltre a regolare l'ora e la data in preziosità ancora una volta dal logo dell'Aaron Space Force francese in inglese me la cavo un po' di più in rilievo e blocca l'inserto sì avete capito bene è presente infatti su questo modello e forse è una delle cose più particolari di questo orologio un blocco della ghiera tipico della linea superman a ore 3 è presente su infatti tutti i modelli fin dal 1963 l'idea è semplice ma efficace la corona una volta abitata serra l'inserto che non può essere così spostato in modo accidentale nonostante questo l'inserto ghiera è comunque a scatti e non è una ghiera libera quindi è un utilizzo di uno strumento che veniva in particolare usato per le lunette libere ma che qui trova comunque una sua reinterpretazione e senso soprattutto nella citazione dei orologi vintage realmente realizzati dalla casa francese le spallette protegge corona sono un ulteriore elemento di eleganza visto l'affinarsi e il prolungamento che hanno fino ad arrivare praticamente alla corona che trovo davvero molto interessante il quadrante magnetico il blu utilizzato si integra alla perfezione con gli indici AU applicati e sfaccettati che proteggono i micropallini di superluminova che si possono ammirare al buio in questo video accelerato come potete vedere nonostante si tratti di un prototipo la prova al buio è davvero ampiamente superata non solo per i piccoli dot dove ovviamente la pasta luminescente presente è limitata ma soprattutto per le sfere di ore e minuti il quadrante del superman AAE search and rescue è protetto inoltre da un vetro zaffero a doppia cupola spesso pensate 2,6 mm che si sposa alla perfezione con il look neo vintage che vogliono offrire l'iconica lancetta dei secondi cromata con la testa a forma di pala è la stessa utilizzata in alcuni modelli superman degli anni 70 e che ammiriamo ancora oggi in tanti modelli anche di casa seco la sfera dei minuti è splendida essendo disegnata per chi fa immersioni è la più evidente e di fatto la più utilizzata ma anche al giorno d'oggi quando guardiamo l'ora anche se non siamo immersi in nessun fluido di solito abbiamo più bisogno di conoscere i minuti che le ore che bene o male sono scandite da tanti altri aspetti della nostra vita o sbaglio la data è sottolineata da una cornice ed è ben visibile mentre sul resto del quadrante troviamo poche scritte sul quadrante come a ore 12 stampato Yema Superman a ore 6 automatic e 300 metri sotto l'indice a ore 6 con orgoglio troviamo la scritta France invece che è un classico made in Swiss che avrebbero comunque potuto utilizzare sì grazie al calibro presente ovvero un sellite sv201 affidabile come i pochi grazie ai suoi 26 rubini e una frequenza di 28.800 alternanze ora quindi un calibro high bit e una riserva di carica di 38 ore che di solito però si arriva quasi comodamente alle 40 insomma difetti pochi davvero pochi forse solo l'ingegnerizzazione del bracciale che andrebbe migliorata rappresenta un vero e proprio difetto dal mio punto di vista ma per il resto a 1249 euro davvero si ha un orologio splendido con finiture di ottimo livello e al proprio polso davvero offre tanto soprattutto per chi è amante del vintage ma non vuole acquistare un vintage avendo paura magari di costi di revisione problematiche varie o comunque una delicatezza in più da avere su un determinato segnatempo ma ora torniamo in saletta che questa volta è speciale come avete già avuto modo di vedere per i saluti e le considerazioni finali eccoci spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato utile per capire se questo iema fa al caso vostro o no come ho detto all'inizio del video per me non è stato subito amore ma lo è diventato e rappresenta questo secondo me è un valore aggiunto dell'avere l'occasione di testare alcuni orologi o provarli magari andando in gioielleria per gli EMA non avendo una distribuzione diretta bisogna andare un po' a fiducia ma è un brand che davvero sta prendendo sempre di più piede in Italia e quindi sono convinto che magari troverete un altro amico appassionato che ve lo potrà far provare io vi ringrazio vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me Facebook Instagram Telegram gruppo Facebook dedicato all'offerta per gli orologi e TikTok tutti i link li trovate qui sotto se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale grazie per aver visto questo contenuto e ve ne lascio qui in fondo qualcun altro dedicato a questa mia grande passione l'orologeria ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.